Ciao a tutti, allora con questo video ho avuto l'occasione di fare le mie più sinceri condolianze a tutti i parenti e a tutte quelle persone che hanno avuto la spiacevole notizia di stanotte in treno che si era alliato a Viareggio. Essendo Toscana ho sentito molto con il cuore questa faccenda perché sono stata varie volte a Viareggio, è una città bellissima e nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, quindi non mi sento oggi che avevo intenzione di fare un video tutorial di farlo, porto rispetto a queste persone e spero che sperare è inutile perché purtroppo i morti sono tanti, spero che malgrado tutto questo i feriti e le famiglie riescono a passare a questo momento buio. Un bacio, ciao ragazzi!